La gente in colonia era andato ad armare la roba, allora un casale e gli ha detto da sempre la colonia andiamo avventurando nella città e gli avevamo un fior sole che venissero, da lì due anni che erano qua nella città che venissero i parenti a cattarli, gli ha detto guarda questa settimana veniamo a cattarvi e allora la donna gli ha detto all'uomo, guarda e vieni a cattarmi bisogna che mostriamo che noi stiamo bene qua, andiamo dalla soga e compriamo una piccagna e la mettiamo sulle bronze e facciamo una bella festa, te che hai proprio ragione che mostriamo che noi stiamo bene qua e allora gli ho comprato la piccagna e quando ero lì gli ho cominciato a cascare gli occhi in cima alle bronze e gli ho detto fuori quel cero forte e il torsanteo ha detto mamma mamma senti che spussa dei corni i brusei e gli ho detto corri corri ma se tu fanno le cascare del tuo fogo oh 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 oh